Salve a tutti ragazzi, oggi andiamo a spacchettare un altro bottelman questo penso che sia il migliore tra quelli che abbiamo spacchettato per adesso si chiama Aqua Sports è un bottelman ispirato alle bibite sportive ed è di tipo velocità, cioè che riesce a sparare a raffica infatti dietro la schiena ha tipo un specie di caricatore su cui puoi mettere un massimo di tre tappi e sulle braccia ha tipo dei roller che servono a sparare velocemente andiamo a vederlo insieme e ed ecco qui il nostro acqua sports montato mancano solo i sticker e andiamo ad attaccarli subito ragazzi ho appena finito di attaccare i sticker e non vi rendete conto quantità sticker livello manicomio assolutamente da matti però è veramente stupendo il caricatore qui si possono mettere un massimo di tre tappi quindi potete sparare tre volte consecutivamente è un bottleman di tipo velocità quindi riesce a sparare a raffica l'ho appena provato e vi dico secondo me è più preciso di di okuroku e anche più potente di kolamaru è una roba assurda questo bottleman qui design diciamo che fra kolamaru e aqua sports sono veramente simili le rotelline qua sulle braccia per sparare più velocemente possibile ed eccolo qua il nostro aqua sports senza armature andiamo a provarlo subito sul campo primo test vorrei testare la velocità vediamo quanto riusciamo a sparare velocemente consecutivamente con aqua sports rispetto agli altri due bottleman questo qua è molto più preciso cioè i tappi schizzano fuori con minimo sforzo non c'è bisogno neanche di sforzarsi tanto prossimo test proviamo la potenza e vediamo quanto riusciamo a spostare questo doppio birillo iniziamo subito qui è una cosa incredibile chissà che è quello che spostate di più questo birillo sia in velocità che in potenza e la precisione non c'è niente da discutere veramente è più preciso parlavamo di precisione e vediamo se riusciamo a buttarlo giù al primo colpo mamma mia che precisione sto bottleman eccoci qua alla fine del video e è veramente mostruoso sto bottleman al primo posto sia precisione sia velocità che potenza è una roba assurda sto bottleman assolutamente il migliore tra quelli che abbiamo spacchettato per adesso e niente ci vediamo un prossimo video ciao io qui